Quinto anno per Roberto Giammarino qui a Pineto, grandi risultati. Bisogna però alzare l'asticella perché non ci si accontenta mai. Alzare l'asticella non è facile. Alzare l'asticella per Pineto significa fare qualcosina in più nel settore giovanile. Questo è un obiettivo che dobbiamo perseguire e dobbiamo centrare nei prossimi anni. La cosa importante è iniziare a tirar fuori non due, come stiamo facendo ogni anno, ma metterne due, tre, quattro. Allora saremmo stati bravi. Strutturarsi ancora di più, consolidarsi a livello del settore giovanile. Il settore giovanile deve essere un obiettivo importante perché poi sarà il futuro del Pineto. Perché i dirigenti passano, però se crei presupposti buoni nel settore giovanile... Per dare continuità. Hai continuità e si creeranno dei presupposti nuovi. Sei stato bravissimo a deludere la domanda, devo dire. Da giocatore eri un marcatore e non un brevilinio tornante. Era un difensore con i piedi buoni. I piedi buoni l'ho detto per scherzare. Infatti qualcuno ride al di là della mia telecamera, no scherziamo. Il Presidente non ci ha dato obiettivi importanti. Ha detto facciamo un buon campionato cercando di ripetere quello dell'anno scorso o quello dei due anni fa. Quindi è chiaro che poi per fare un campionato importante bisogna essere tutti quanti coesi e far crescere. Quest'anno c'è un nuovo allenatore, Epifani. Chiaramente daremo il massimo supporto a tutti, come già abbiamo detto, per farlo lavorare come si fa a Pineto in tranquillità. Saremo i primi a difendere l'allenatore e le nostre idee. Ti sorprenderò, però poc'anzi e microfoni accesi. Il Presidente Brocco ha detto testualmente voglio la Serie C. Io non c'ero, non l'ho sentito. Siccome devo ascoltare con le mie orecchie, ci sento un po' poco. Però siccome non l'ho ascoltato io con le mie orecchie, quindi resto sempre dell'avviso che dobbiamo fare delle buone cose, ma non abbiamo queste velleità. C'è qualche novità sostanziale, soprattutto nel reparto avanzato, rispetto all'ultimo torneo di Serie Dio? Sì, sicuramente, perché l'attacco è cambiato. Diciamo che la struttura della squadra è rimasta quella dell'anno scorso, che l'anno scorso il Pineto è stato un grande gruppo e ha fatto un grande campionato. Poi tutti i campionati hanno una storia e speriamo che questa sia una bella storia perché mi farebbe piacere per il mister che ci viene con tanto entusiasmo. Viene da due anni non bellissimi, però so che la sua caparbietà, perché lo so io quello che ho passato in questi mesi per allestire la squadra, è molto pignolo. In bocca al lupo di cuore, Roberto. Crepi il lupo, viva il lupo e speriamo bene.